Amici di Storia dei motori che bello, quando arrivo a questo appuntamento io mi presento con la mia scaletta C'è tutta la scaletta con tutte le domande pronte oppure come va di moda adesso vanno con gli iPad per fare le domande perché almeno io l'iPad non funziona per cui non ce l'ho Stasera protagonista è lui Ezio Gianola, ciao Ezio Mi ho fatto la presentazione e già lì mi sono ammazzato subito e mi riesce a capire se fai il vero o se fai il dito Io ce l'ho piccolo, ce l'ho qui dentro Dopo sai che quando segnano tutto poi dopo un certo punto inizia il programma, non si ricorda più niente o si salta via di pala in frasco come si dice in francese Allora Ezio senti cominciamo questa chiacchierata insieme, grazie per essere qua innanzitutto è un grande piacere Ti chiedo innanzitutto secondo te perché sei nato? Esatto, infatti lo dicono in tanti era meglio che non sarebbe successo No però invece dai Però motociclisticamente sono nato a Mandelolario No no perché sei nato come persona, perché è nato in Zio Gianola? Te lo sei mai chiesto? No secondo me c'è Motociclista dopo, c'è tempo, guarda che ce n'è di tempo No però ci sono delle cose strane, no? Ad esempio, no? Cose che nel tempo poi riesci a capire come mai io ho fatto il pilota ad esempio Perché ad esempio mio padre aveva un amico ingegnere, no? E andavano sempre a lavorare insieme con una vespa e lui si chiamava Ezio Poi fece un incidente stradale ma banale e perse la vita e mio padre quando io nacquilo mi chiamò Ezio E già lì c'è la prima cosa legata alle moto ma poi Ma te lo disse o poi l'hai capito lui dopo? No più avanti negli anni dopo perché non aveva un po' senso, no? Però mi ha chiamato Ezio perché erano il suo amico di lavoro, no? Erano proprio tanto amici, no? Poi più avanti quando io cominciai a correre nell'89 Io ero legato a un pilota che era poi con la dottore Raguzzi Si chiamava Orlando Macchi Che faceva le 24 ore di Le Mans con le... ha fatto anche con... ha vinto una mille chilometri al Mugello Era uno che andava a combattere con migliorati il padre E faceva le 24 ore di Le Mans anche con le Cavasà che erano forti, erano bravano Perché a Mandela un po' tutti i collaudatori poi correvano Però capitò il 14 di giugno del 79 perché poi io il giorno prima compivo gli anni E per me era il mio idolo, cioè io volevo correre in moto Ma poi siccome c'era Falanga, campione europeo di... delle corse in salita C'era un po' questo dualiso perché uno aveva un'officina da vedere L'altro usciva dalla... quando facevano i collaudatori dopo le 5 e mezza dalla Guzzi E quindi facevo un po' il ping pong Uno voleva che correre la gara in salita e l'altro mi diceva non dovevi proprio correre Vabbè alla fine purtroppo anche in questo caso Successe un incidente stradale E questo mio amico Orlando Macchi purtroppo perse la vita Mentre faceva il collaudatore C'ho una macchina che fece un'inversione a U sulla superstrada Lecco, Badia Lecco E un altro caso strano è che questo ragazzo che io conoscevo Che stava... era un neopatentato Stava facendo... sai c'era il foglio rosa E lui si chiamava Ezio, anche lui E questa storia è... ed è quello che poi ha creato l'incidente Tutte queste cose, questi Ezio che andavano Alla fine ho detto no io qua... è un segno È un segno, quello che non ha fatto lui lo devo fare io Però c'erano tutte queste storie che poi nel tempo mio padre me la raccontò del suo amico E che poi questo mio amico che voleva che insomma io ho preso questa passione qua Ho preso questa passione qua E' successo quest'altra cosa E io al posto prendere al contrario... cioè nel senso che poi le famiglie negli anni Fini anni 70 le corse le vedevano come una cosa pericolosa Quindi alla fine non ti facevano andare a correre a 14 anni Quale padre spedeva i soldi per comprarti un cinquantino per andare a fare le gare? Vai a morire insomma Non è che le vedessero male però effettivamente No ma perché poi purtroppo a Mandello molti collaudatori in quegli anni lì Che non c'era ancora il casco obbligatorio Su questa strada succedevano sempre incidenti Quindi erano tutti ragazzi giovani che... Perché poi a Mandello c'erano tanti ragazzi che correvano nelle gare in salita Ma ti dico tanti, collaudatori quasi tutti E quindi la passione era proprio lì E' nata lì E io ho cominciato ad andare perché poi il mio circuito Quando comprai un'aspe samadesimo a 2000 metri E lo comprai da un mio amico che si chiamava Joan Strache E' già il nome lì E' tutta... Infatti la moto è piena con il fil di ferro E io avevo risparmiato perché poi ho fatto anche le gare di trial, l'enduro Ne ho fatti tutti i colori Facevo il saldatore alla Lanfranconi marmitte di Mandellolario E quindi mio padre mi disse Tu io con le moto non ti darei mai niente Però gli dico vabbè papà però non ti posso portare a casa la busta di 60 mila lire Per dare a te che comunque lui aveva un albergo, stava bene L'importante è che non gli chiedi il grano Ai genitori per le corse non dovevi chiedergli niente E quindi poi alla fine comprai questo aspes Perché volevo andare a fare il trofeo Aspes quale? Aspes Juma Che sogno l'aspes Juma Però come si dice dalle nostre parti Taccai in senco il fil de ferro Andai a comprarlo per 700 mila lire E quindi vendetti la moto da Trial che aveva un Fanti 125 Tra 4 dinghetti rubati a destra e sinistra per fare il grano E andai a comprare qualcosa E il mio campo di battaglia, il mio circuito Era poi la strada, la superstrada Che era chiusa perché la stavano facendo Che praticamente da Lecco andava fino a Colico Ma quella doppia corsia lì per lavoro era sempre chiusa Quindi per me andare avanti e indietro a 150, 170, 180 all'ora A sabato con tutti i miei amici Io mettevo su un casco che allora la Nolan era a Mandello Lario E Lander Nocchi che è il nome della composizione del nome Esatto, Nocchi, Lander, Nolan Il figlio veniva a scuola con me Quindi io andai a comprare un casco Pensavo come lo regalava Però siccome lo ciulavo sempre tra virgolette A fare le garette nei campi da cross lì fuori dalla Nolan Mi fece pagare questo casco 25 mila lire Che ce l'hai ancora qui Che ce l'ho ancora Io ce l'hai ancora qui proprio in testa le 25 mila Sì perché se magari arrivavo dietro Ma 25 mila lire era tanto Dovevo lavorare due settimane Allora andavo jeans, maglietta, maniche corte Casco della Nolan E giù a palla a Wattin Re Con questo Aspes E tutti i miei amici che vi facevano segno Perché poi su questa strada andavano tutti C'è chi faceva regoletta, Enduro Chi andava su a limonare con la morosa Macchine Perché poi c'era la galleria Quindi andavano dentro in Camporella Noi facevano tutti i colori Qui la storia nasce così Nasce così Non è il suo formativo Perché poi non avendo niente Mi sono ingegnato nel fatto di dire Ma qua per andare a correre Vabbè mi iscrissi al motocubblecco Però scusa tu qui quanti anni avevi? Perché io voglio capire 19 anni 19 ho capito Ma dai 5 Da quando cominci a ragionare? Guardate che noi uomini Cominciamo dai 15 A avere un filo A capire Perché siamo al mondo Da quando hai cominciato a capire Quando ti è scoppiata la passione? Allora Guarda Mio padre aveva Essendo Lo chiamavano gilera Perché era l'unico Che aveva comprato un gilera Dove tutti lavoravano Per la motoguzzi Quindi avendo un ristorante Alloggio a Campo delle Bocce Poi venivano anche i pugili Della motoguzzi C'era un ritrovo Al tempo dell'ora Della guzzi Succedeva che Gli operai Non andavano come adesso Non avevano le mese Portavano la famosa schiscetta E quindi venivano a giocare alle carte Nel tempo dell'ora Da mezzogiorno Alla 1.30 Quindi lì la passione Io avevo 7-8 anni Io cosa facevo? Siccome era un po' in discesa L'uscita sulla strada Perché c'era tutto questo gioco delle bocce Giocavano lì sotto il berso Queste cose qui Io avevo Tutti i movimenti che facevano Per accendere i motorini Perché alla 1.25 C'era il famoso fischio C'era una sirena Stile bombardamenti Della guerra Che quando Dava il fischio Alla 1.25 Per far venire tutta la gente Poi lavorare alla guzzi Noi eravamo tipo a 300-400 metri E questa sirena Richiamava tutti Quindi ripartivano tutti Come una gara Per andare a lavorare E tu stavi a guardare? Bellissimo No, io stavo lì a guardare Cosa facevano col movimento Allora a un certo punto Questa cosa è andata avanti per anni Poi quando ho cominciato A capire Che volevo correre Però dovevo mettere via Dei soldi Quindi cosa mi ero ingegnato Roba che oggi Non succede neanche più Che siccome c'erano 50-60 motorini Tra i dinghi, i trotter Le lodole Tutti sti sti robi Che c'erano una volta Allora io mi ero ingegnato Di dire Ma se io tiro su un motorino Tra virgolette lo frego E poi Cosa ho fatto? Facevo Avevo imparato a cenderlo Perché loro saltavano sul volo Dico Io Faccio questa idea qua Sparisce un motorino Qualcuno rimane a piedi Allora a un certo punto I fatti partivano Qualcuno rimaneva a piedi E io gli avevo rubato Il motorino Quello portava a casa A mio amico Il giorno dopo Andavo da lui A missionante di tuo padre? Sì sì Perché andavo da lui Gli dicevo Sai che io so Che ti ha rubato la moto? No Se mi dai 5.000 lire Io te la riporto Ma non posso fare il traditore Quanti anni avevi? 13-14 Andavo ad abbiarti a sberle A mille Quindi Gli ho detto Te l'ho trovato Non ho saputo Chi te l'ha fregato Ci penso io Allora Io lo riportavo Gli dico Guarda Dammi 5.000 lire Perché se no Fa gola Il motorino Perché è nuovo Allora lì Me lo dava E ne ho fatti Non ti ha mai sgamato? No Non ti ha mai sgamato Perché Come fai tu Che sei il figlio proprietario A pensare che tu Perché i motori Ce n'era una pigna Quindi buttati là Di qua e di là Quindi stavi a giocare Le carte Però dopo Sette volte Ottava volta Che partiva Io gli trovavo A un certo punto Mio padre I suoi soci Hanno sguinzagliato In giro Tutti i cani Per vedere Chi era sta lepre E allora Mi sono accorto In tempo E glielo Il mio padre Sta storia qua A casa Ma Non dissi mai niente Ai miei genitori Quindi lo portavo A casa Il mio amico Che lo sapevamo Sancio Che lavorava All'Enel Quindi Lui si presentava Con un Tony Dallaguzzi Tipo 60 Con una crappa Tipo Capo Napolso Capo Doppio Nolan Non lasciava mai Neanche La fettucina Che tu tiri E quindi La fettucina Che è i lati Era La cosa Della fibbia Lui la lasciava andare E quindi Toccava in terra E sembrava un lebroso Quando ne viva Con i piedi Sembrava Charlie Cepin E quello lì Era il mio meccanico Che tra l'altro La cosa pazzesca Che andavamo A far le gare Ma siccome era tutto Di nascosto Mio fratello Siccome lavorava In un negozio Di elettrodomestici Andava in giro Con un furgoncino Un Renault 4 Cabinato Dove però Al venerdì sera Non poteva più usarlo Lo metteva lì Perché sabato e domenica Non poteva usarlo Per la ditta Allora io Lo fregavo Dovevo trovare qualcuno Che aveva la patente Mettevo su tutto Di nascosto La moto Che poi non ci stava dentro E togliere la moto Che era morto Che era morto Quindi succede Che le gare Io le comincio A fare così Però tanto Perché poi Vabbè La prima gara Tutte queste cose La prima gara Quando No ti racconto A Vallelunga Però Torni indietro un attimo Perché la cosa più bella Fu la prima prova in pista A Monza Quindi organizzando A ottobre Novembre Su quello che Motospring diceva Io guardavo Che vinceva C'era Reggiani Il papà di Melandri Il papà di Di Marco E altri piloti Che correvano Dei tempi E io guardavo Loro Perché Motospring Lo mangiavi Allora E c'erano Tutti i regolamenti Quindi scrivete Il motocra Io sono andato Cosa devo far Per correre Perché non sapevo Niente Al di là Che avevo Imparato un po' Da questi Collaudatori Ma non avevo Fatto pista Niente Ma sempre con l'Aspes Ti presenti? Con l'Aspes Vado a Monza Furgone solito No no Lì ho trovato Un carrello Una roba così Evo due Sì sì Ma una roba Perché ti racconto alcune cose Che fanno troppo Troppo forte Allora vado a Monza Con i miei amici Che non sanno niente di moto Però Avverto mio fratello Perché il meccanico Del mio amico Che è morto Che Che si chiama Giorgio Balzarotti Il papà E' stato il compagno Di squadra Di Omobono Tenni Che allora Era un fenomeno Negli anni del dopoguerra E era il compagno di squadra Ferdinando Balzarotti Che è stato anche Campione italiano Quindi una famiglia Di appassionati Però Essendo il meccanico Del mio amico Che ci lasciò Non aveva voglia Di seguirmi Anzi C'era un alone Lì Dele gare Di non più sapere niente Perché la storia È stata pesante Quindi ho aperto Il mio fratello Dico Guarda che io vado a Monza Non mi interessa niente Vado giù Vado giù a girare E poi mio fratello Che è più grande Chiamò l'amico Giorgio Questo mio amico Meccanico Che faceva Il mio amico Che se n'è andato E disse Guarda che quello scemo là Va giù a Monza A girare con la moto da corsa Questo è tutto scemo Perché poi Quei periodi lì Tipo ottobre Novembre A Monza A sabato Domenia C'erano tutti quelli Che erano Avevi la licenza Però andavano dentro E c'era di tutto Tu avevi in 30 Andavi dentro C'era dentro 125 500 Quelli che facevano Di tutto Di più Allora praticamente Io vado giù E mi fece imprestare Una tuta Di quelli Decollaudatore Nere Nere Il casco famoso Della Nola De 25 Nere Tirato E un paolo Di scarpe Sempre Decollaudatore Che era il 47 Però Perché Perfetto Il tuo numero Io ho il mio numero 38 37 38 39 Quindi Praticamente Ero Sembrava un po' Svalvolato Cioè Non avevo proprio Una sagoma Che sensibilità Sembrava tipo Quell'uccello Con un becco giallo Così chiamano Cioè Cioè Guardabile Vabbè Vado dentro Faccio Però io Quando sono entrato La mia mentale Dico Te pensa che qua Pasolini Sarina Agostini Tutti i campioni Così Vado a fare la parabolica Cioè Ero Tirato Come Cioè Per me era una gara E poi era una gara Veramente Perché dico Io da questo Mezz'ora della mia vita O vado Cioè O vado avanti O non vado avanti Perché lì era un po' La prova del nome So cosa farò da grande Eh sì però Ma c'è tutto dentro La testa Ma in realtà In mezz'ora Cosa vuoi fare Sei entrato consapevole Dei tempi che facevano I riferimenti Tipo Reggiani Melandi Così Avevi Sì sì Ma non avevo neanche idea Di come farli Perché poi Io poi La moto L'ho messa insieme Con gli amici Non so neanche Se era regolamentare Non so niente L'abbiamo messa insieme così L'unica roba che mi piaceva L'estetica pitturale Con le bombolette Ostiate Non finivano più Poi alla fine Vabbè Parte come se fosse una gara Cioè dalla bandiera Per entrare Io giù in carena A manetto Comincio a fare Però giravamo sul corto Quindi variante stretta A junior E parabolica Due o tre giri Però il problema Che non avevo idea Allora Dopo due o tre giri Caduto subito Poi freddo così Chiuso lo sterzo All'uscita Della junior Che esce Praticamente Cado Corro A prendere la moto Non fa tempo neanche Quelli che ci sarebbero Sbandiare Poi sono diventato amico Nel tempo Riprendo la moto Rissalto sulla moto E via palla Ma io Non è come una amica Sono entrato in box Sei matti Ma cioè io poco tempo Ripasso Quelli che erano fuori Il mio amico Sancio Quello delle E Gli altri due o tre miei A portare Dicevano Questo qua fa Passa un minuto E dieci Poi passa A tre minuti e dieci Ma cosa farà in giro E non hanno capito Che ero caduto Però Quella volta Che la prima volta Che sono caduto La moto Non si era fatta Quasi niente Allora rigiro Faccio ancora Troro quattro giri Altra legnata Un'altra volta Prendo il cordolo Che divideva Cado La marmitta Tocca sul cordolo Esce davanti Perché davanti Aveva due molle Che entrava dentro Il collettorio Dove c'è il cilindro Cioè io Quando ho visto Che se era Era saltata fuori Con i guanti Ho messo Mi sono puntato Il telaio Ho tirato La marmitta Con il fumo Delle mani L'ho rimesso dentro Ero invasato Sono ripartito A palla E non mi sono fermato Un'altra volta Solo che quando Mi sono venuto Mi hanno rivisto Dopo due o tre minuti La carena Non l'avevo Perché l'avevo sfasciata Quindi sono passato In carena Ma senza la carena Invasato Allora Mi hanno cominciato A dire Che è fuori Vabbè Quando rifaccio Tre o quattro giri Non so come ho fatto Stare in piedi Quando ho visto La bandiera Io come se mi sono Ma una volta C'era l'entrata Sei dietro Sì Rivado con la moto Vicino al carello Così no Tiro giù Ma nel mentre Guardo E vedo In lontananza Che arriva mio fratello Col Giorgio Balzarotti Che era il meccanico Il mio amico Che sono Erano venuti Di nascosto A vedermi Capito Erano invarianti A vedere tutto Lo stilato Che avevo combinato Io ho detto Wow Questi uomini Ammazzano Basta Finita lì Restore Nel frattempo Siccome questo mio amico Che poi mi ha seguito Che poi vinsi Il primo campione italiano Con lui L'anno dopo Con la villa Siccome lo guardavo In faccia E capivo Dalle espressioni Che cosa aveva in mente Da dirmi Perché la mandibola Si tritava talmente tanto Che qui si faceva Sembrava un condor No Ho detto Aia Adesso che mi ammazza E parlò Con mio fratello E veniva in qua Verso di me A un certo punto Intorno a me Io Siccome avevo tolto Il casco Ero lì Che gironzolavano Un po' Alla larga Gironzolavano E arrivano Sette Oto Dieci persone E cominciano A dire Sempre io Solo Ma Te l'hai Quel mal lì Ma Chi l'hai Ma Che è La cugliusca Lì Ma Tavai Scompetava Dentro I varianti Ma Tutte Queste parole Quano Te l'hai Come il cammina Questi Se li puoi Andare In campione Che roba del genere Ma io mi giravo In giro E Che 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 Parla Così Insomma Alla fine Io Feci L'unico Giro decente E girai Due o tre decimi Più piano Di Reggiani E Melandri Che avevano vinto L'anno prima Il campionato Quindi La mandibola Del mio amico E mio frattore Parla Ottavano Era In sostanza Che Cioè Dici Questo qua Non è buono andare C'è L'unrottame La prima volta Che va giù C'è Dalle gomme vecchie Non hanno rapporti Neanche giusti Perché non so Cosa c'avevo su E gira Tre decimi Dalla gara Vinta Da Reggiani Si stende Mette sulla barbita Con le mani E dice Si perché dopo tutto quello E' stato visto dalla gente Perché la gente Veniva lì a dicere Questo qui non è a posto Cioè Questa qui è stata La mia prima uscita Però Tutto questo Poi vabbè Il discorso è che A un certo punto Mi fratello disse Ma questo qui Cosa facciamo Andiamo avanti Perché questo qui Non smette Questo è in mente Perché C'è la morte Del suo amico Che l'ha lasciato E vuole prendere il suo posto Quindi io ero Fulminato Fissato Quindi Tutta la preparazione Invernale Venne fatta Sempre di nascosto Dai miei genitori L'unico a sapere A mio fratello Da questo amico Sancho Che iniziavamo A mettere a posto Un po' la moto Perché il meccanico Vero Fece una lista E dice Guarda che questo 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 Tutto da fare Perché andava messa Siccome loro Facendo le gare in salita Il Joan Strache L'aveva messa lì Un po' Così Quindi io poi Comincio il campionato Questo che anno era Scusa Che anno era questo? Allora all'inizio Era il 79 1979 Quel giorno lì Era un 79 Era il 1979 Poi passò E andò al 1980 Però io non avevo Tutti i soldi Quindi non ho fatto Tutto quel campionato Però arrivo Salto via un pezzo Erano tutti i tuoi soldi O ti hai aiutato tuo fratello? No no Erano miei Solo tuoi? Prima miei Dopo un po' Ho cominciato mio fratello Mio fratello facendo Il rappresentante C'era una bella lingua Quindi cominciò Tu sei 60 Lui era 55 Quindi lui Andando in giro Già per aziende Che portavano Macchinari di pulizia Sanificazione E cose del genere Andavano poi In certe aziende Tra cui per dirti La Domino Che conosciamo O la Nolan Andavano e dice Ci abbiamo qui Nuovo Astro Cioè lui Pompava talmente tanto Che qualcosa Era spavacato Capito? Quindi Ha fatto Cioè abbiamo trovato Di tutto come materiale Dalle chiavi Poi abbiamo trovato I compressori Quando avevo detto Che c'erano i compressori La Domino Mi dava le levi Comandi Così la Nolan Dopo la Nolan Mi ha dato un casco Cioè tutto Abbiamo buttato insieme Una cosa Poi abbiamo comprato Un 238 a gas Con sulla 6 la bombola Mamma mia Verlo ancora adesso Che bello Colore Colore Beige Ma bello Da combattimento Che bello Che erano quelli Che mettevano giù Un mercato Che poi l'abbiamo preso Tipo a 300.000 lire Abbiamo rifatto il motore Così L'abbiamo messo lì Che sembrava una roba Di cera spaziale Sul portapacchia Sì sì C'era tu Sì quello so Eh sì Perché dopo Io andavo in giro Che sembrava Ho scappato di casa Detto questo Però io Sono andato subito forte Perché già la prima uscita Avevo già cominciato A La prima uscita C'era un certo Cadalora Un certo Gresini Che andavano forti E ogni tanto Li vedevo Dicevano Pensate se questi due Qui sono il penultimo E l'ultimo Che sai come Come vanno gli altri Perché è la prima uscita Non sai chi trovi Quindi c'era già Gente che andava forte Che hanno cominciato Anche prima di me Quindi va bene Io sono partito In prima fila Prima gara Tra l'altro Capitò in prova Una cosa Che ti devo raccontare L'Aspes Il serbatò Col tappo Era sempre quella La moto comunque Era lei Quella Quella era Quella Messa a regolamento L'Aspes Ha il tappo centrale Che schiacci Plam Salta fuori così Quindi cosa succede Io avevo Poi una zia Con tutte le Sai che tu Sopestizia così Mi regalò una catena D'oro Grossa Al collo Arrivò una staccata Sono giù in carena Così La catena Lava dentro Nel tappo No Non ci credo Bim Bum Cioè Non sono riuscito Di morire Per la catena Eh sì Alla prima curva Che era la Viterbo A Vallelunga Quindi feci un volo Pazzesco Per sta catena Che c'era Sono che la croce Non si fa così Non è un bello scherzo Vabbè Ce ne sono tante Di queste cose qua Però moto intatta Sei riuscito poi a partire Dopo ho fatto E sono partito In prima fila Sono riato quinto Sesto Però la cosa più carina È che i miei genitori Quella stagione lì Non sapevano che correvo in moto Perché era sempre tutto nascosto segreto Però arriva il momento in cui Le cose vengono scoperte Perché poi A Magione L'ultima gara Dopo che ho imparato a fare C'erano le dalle o meno delle misine Perché io poi ho fatto sette gare Sempre con le stesse gomme E mi dicevano Ma quante ne hai queste gomme? Perché si cambiano le gomme? Non sapevo neanche queste cose qua Le ho imparate tutte Però io avevo la forza Dentro di che volevo arrivare A tutti i costi Quindi Arrivò l'ultima gara E c'era Caracchi Che aveva la NCR Malacca Ufficiale Che andava come un missile Gresini Cadalora E io Questa era la prima fila Allora praticamente Scaramuccio Battaglio così Riesco a uscire Nell'ultima curva Primo Facendo anche il record Della pista di Magione Quindi ero riuscito A tenere dietro Sia Cadalora Che Gresini Quindi ho detto Ho vinto Ho vinto Ma mi passò Proprio a un metro Caracchi Con la Malacca Perché la Malacca Bicilindrica Non c'era neanche Paglia Volava Vabbè Quindi cosa successe Vabbè contento Due coppie così Però io dico Adesso Io come faccio Ad andare a casa Da mio padre Che gli ho sempre raccontato Che il sabato e domenica Andavo sempre Dal Giorno Strascia Ma devi scegliare Capisci Cioè Era difficile da dire Però Il motoclub Diede comunque Le classifiche Al giornale Di Lecco Quindi mio padre Che aveva un distributore Di benzina Poi più avanti Lasciò l'albergo Per il distributore Di benzina A Val Madrera Quindi tutti i clienti Che arrivavano C'erano motorini Così di qui di là Non sapevano niente Allora un giorno Arriva un cliente Se mi fa Oh complimenti Quel tuo figlio Che ieri So che ha fatto una gara È andato forte Di qui di là A Mandelese E Zio Gionola E mio papà disse Apre il giorno di Lecco E siccome c'era anche mia madre Comincia a dirgli Ma Quanti Ezio ci sono A Mandè Qua A Val Madrera E a 5 anni Mi fa Guarda Di Gionola ce ne sono tanti Perché venivano dalla valle Mi fa Ma Di Ezio C'è solo tuo figlio Ah no Perché sai L'arrivo a qua In Bialet L'indasci a Madesim Ma la neve L'era minga Tanta bella E Madich L'era tutta posta Perché io cosa facevo Alla domenica sera Mio padre Quando ad esempio Il distributore Era sempre chiuso La domenica Io facevo sempre La finta Di arrivare a casa Con gli sci E con gli scarponi Perché era una finta Ma io arrivavo Dalla lunga Disgraziata A livelli Ma davvero Tra l'altro Sì sì E per forza Perché non potevo dirgli Però Quella volta lì Avevo vinto le coppe Allora Praticamente Il lunedì sera Quando ci si riuniva Ancora la vecchia famiglia Mio fratello Il più piccolo Il più grande E la classica cena Con la mamma Che serve La minestra E mio padre Che tirava su Col cucchiaio E mi guardavano Io guardavo E io guardavo Dice Ma Non avrà capito E a un certo punto Dico Ma no No Ho cominciato a dire Allora Somma adesimo Come l'è andata Ieri Con la neve Era aprile Inoltrato Non c'era più Nel prato Lo sai che Insomma Ha sgamato Che ero io E poi dopo Se l'era presa Anche con mio fratello Ma il fatto Che mio padre Era di una generazione Che quando Tu facevi le cose Era quarto dan Di carattemio Vabbè C'è menava Tirava fuori La cinghia Sembrava zorro Cioè Ho capito Che si stava alzando Per partire Però alle mie spalle C'era la finestra aperta Che era Quella classica Da un metro E poi salti nel giardino Sono saltato fuori Che sembravo otto Sei volato via Di Biasi Clause di Biasi Ah sì Mi ha corso dietro per 100 metri Ma siccome ero più veloce Quindi guarda lì Tutta settimana Studiare Il fatto di Come poi Riavvicinarlo Perché lì era dura Allora Cosa ha fatto Siccome mio padre Da giovane è stato In nazionale di fondo Di sci da fondo Quindi È stato sportivo L'ho fregato Perché gli ho portato a casa Le due coppe E prima che rientrava Dal distributore di benzina Gli ha le misi sul taglio E queste coppe Con tutta la classifica Così E poi mi sono nascosto E vedevo che lui Le guardava E da lì poi È cominciata Una storia Tutta legata alla famiglia E poi Siamo partiti Un po' con l'aiuto Anche dei miei Perché dopo Dopo C'era da fare Solo che Abbiamo capito Che per vincere Bisognava cominciare A fare una moto E da lì Poi andai Andai da villa E lì Cominciò la lotta Controccata l'ora Gresire Cominciarono a Amare Ero pesanti Ascolta però Papà ti voleva menare Ma la reazione della mamma Io voglio capire No mia mamma Era quella che copriva E metteva La coperta Nonostante il dolore Di sapere che un figlio Va a rischiare la vita No perché sai cosa c'è Avendo vissuto nella casa vicino La morte del mio amico Cioè era troppo Una roba Perché io Calcola qui È morto Cioè è successo Un incidente a giugno E io a ottobre Novembre Quindi l'anno dopo Aprile Così ho cominciato a correre Ma era fresca Però io Avevo questa Questa voglia Questo desiderio E ho tirato sotto Tutti i ragazzi del paese Per questa roba qua Però è logico Che mio padre E mia madre Non erano tanto Desiderio Cioè l'unica cosa Che andando forte Subito Era il vantaggio Di dire Ma come fai A tuo figlio Che sa fare una cosa forte Qualsiasi cosa A dirgli di no Che sia musica Moto Sport Quello che vuoi Certo Quindi lo fregavo Perché andavo da mia mamma E gli dicevo Mamma E la madre Era sempre dalla tua parte Però è logico Che poi Nasceva queste cose qua E il fatto che comunque Ho avuto un'altra fortuna Che non sono andato a Naya Perché poi Mi hanno fatto ridividibile Così perché ero 30 kg Quindi Quel passaggio lì Se ti fermi In quell'era lì Era dura Quindi Con mio fratello Il meccanico I miei Qui di là Abbiamo buttato insieme Di fare una moto Abbiamo capito Quindi feci un telaio Golinelli Che Diego mi costruì Un telaio Golinelli Col motore Villa E quell'anno lì L'anno dopo Vinsi su dieci gare Davanti a Catarora E Fausto Così Vinsi il campeonato italiano E da lì Poi sono partito Perché poi Ho corso con la Malanca E poi sono arrivato All'esordio mondiale Cioè salto via Un po' di cose Ok no Però invece Non ti voglio far saltare via Niente Perché piuttosto Se hai bravi voglia Ci rivediamo Perché è talmente bello Ascoltarti Che è fantastico E' bello Perché è la storia Di una vita Non è solo la storia Ci sarebbe una contara Anno per anno Io voglio Che tu ci aiuti a capire Quella realtà lì Perché mi piace molto Il discorso di Mandello Perché è una realtà Che non so se esiste ancora così Però Il significato Di questi Collaudatori Che uscivano dalla fabbrica A provare le moto Però Erano quelli Che poi hanno Tramandato questa grande passione A tanti ragazzi Come te Perché io Noi dicevamo lì Che sono stato L'ultimo dei moicani Perché L'ultimo di quella generazione lì Sono stato io Perché dopo Poi la Guzzi Si è un po' fermata Perché poi Non Si sono fermate un po' Anche le storie Dei collaudatori Perché comunque Poi la Guzzi Ha avuto dei problemi Poi C'era De Tommaso Che l'aveva L'aveva assorbita Però non andava bene Quindi si erano fermate tante Però Quella generazione lì E l'ultima generazione Dei piloti Vero Esatto Perché poi c'era Alfio Micheri Che è stato Vici campionato italiano La 750 dietro Beccheroni Poi c'era Tantardini C'erano tutti gente Che Gazzola Cereda Ce ne erano tanti Facevano tutte O in salita Così Ma ti dico 10-15 ragazzi Che correvano Però questi ragazzi Io ero Il più giovane Perché loro erano Tutti degli anni 50 55 Io Sono stato l'ultimo Di quella dinastia lì In effetti Dove abito io La chiamavano La via degli Olivati Perché erano tutti piloti Di quella zona lì Quindi Anche Falanga È stato campione europea In salita Quindi è nata lì Ma tutti loro Cosa facevano Andavano Lavoravano Lavoravano La Guzzi C'è chi Questi qui Facevano tutti I collaboratori Però poi Alle 5 e mezza Quando uscivano Ognuno di loro O aveva un garage O aveva un'officina Dove aveva la propria moto Che correva Quindi io Mi fiondavo giù da loro E stavo Dalle 5 e mezza Fino alle 8 Dentro un'officina Vedere chi aveva Il V7 Dalla Guzzi Chi aveva Il Guazzoni L'Harley Davidson 250 Cioè Era o il Titan 500 O il Suzuki 380 Cioè Tutta quella serie Di generazioni Del 70-80 E quindi E' stata lì Era bello Perché poi Io ero un po' La mascotte Giravo E andavo da uno Magari giorno dopo Andavo da quell'altro Magari era quello Che gli avevi rubato Il motorino Il giorno prima Quelli lì Erano gli operai E quelli lì Se ti beccavano Sì sì Se mi beccavano Una bestiale Quindi questa Questa passione qua Nasce Per tutte queste cose Che oggi Non c'è più niente Di questa cosa Non c'è più questa E' finita Questa generazione Diciamo cultura Alla fine Perché poi Sempre che ti dico C'era la divisione Tra velocità e salita Perché noi Avevamo la Ballabio Piani Resinelli Che era Una corsa Legata al Campionato Italiano Delle gare in salita E lì ci venivano su Tanti campioni Cioè L'ha fatto Agostini Bergamonti Pierpaolo Bianchi Tanti di questi E quindi c'era Anche lì Ci si preparava A fare quella gara lì Infatti io feci La mia prima gara In salita La feci lì La Ballabio Resinelli Che quasi vinsi Ma dopo siccome Andai lungo Un tornante Che l'ho preso Per un altro Sempre con questa gara Feci la La Ballabio Resinelli Ma più che altro Perché c'erano Un sacco di miei amici Che su Un pratone finale Ce n'erano lì 5-600 Che venivano a fare Il tifo per tempo Per me è quella Era una cosa Come Come quando andavi a scuola Che eri malnat Come diciamo Il matto Con le biciclette I motorini Così E quindi Eri un po' quello Che tutti Ti identificavano Come Non so C'erano quelle frazioni Perché le frazioni Di Mandello Che ce ne sono tanti C'erano sempre Dei gruppi Che andavamo Con i cinquantini Ma saremmo stati In 150 Perché sembrava Mandello Un posto Da 10.000 abitanti Ma con tutte le frazioni Intorno Che si andava Nei bar C'erano tutte queste cose qua Alla fine Ci si andava Sempre a vedere Sapevano che io Ad esempio Ero capace di stare Un chilometro Impennato Con la moto Cioè Quindi Eh già Eh Conoscono tutti Capito Quello era il campionato Del mondo C'era il top Di tutti i ragazzini Così E io avevo Quella nomina lì Però Da lì Andare a correre E poi fare una carriera Cioè Ci passa un mondo Quindi all'inizio Non vai mai a correre A meno Noi non siamo andati a correre Per diventare Dei professionisti Ma andati a correre Per la passione vera Cioè Proprio Ne abbiamo fatte Talmente tante Da scriverti un libro Perché tutte queste cose qui Oggi Con i ragazzi Che poi abbiamo noi Quando glielo racconti Sembra che tu stai parlando di Cioè Il bello era che E quando stavi Con il corpo Dentro nella macchina E i piedi Uno sulla stella Sperbatoia Tuttanto Se c'è la schulera Cado giù i piedi Ci svegliamo Un antifurto Un antifurto Grandissimo Solo che il mio amico Con la benzina Con la benzina Comunque è una tirata unica Quindi non mi era Quindi sul bagnato Quindi sul bagnato E poi quando avevamo Perché io ho avuto Anche le SWM Da enduro Così Quindi sempre In quel tracciato Che andavamo Il sabato A divertirsi Ad Abbadia Tra Abbadia e Mandello Quindi voli Sopravoli Ma non mi facevo mai Quasi male Non so perché Come se Perché poi Pensa che Nell'assurdo Io quando correvo Prima di partire O col mio amico Meccanico Ci guardavamo Negli occhi E mi diceva La forza Ce l'hai dietro la sella Ricordati che lui Sarà sempre con te In moto Quindi ho sempre corso Con una forza Come se eravamo in due Cioè che questo mio amico Mi dava sempre questa forza Ed è stata Sempre Dentro di me Sempre Cioè ho fatto delle cose Io sono andato Sulla sua tomba Quasi tutti i giorni A A trovarlo E parlavo 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 Sognavo Parlavo Cioè quindi È tutto un mondo Che poi Quando ci trovavamo Io e il mio meccanico Che è stato suo meccanico Lui mi raccontava Tutto quello Che io avevo perso Di lui Quindi Era una forza Che diventava Sempre più grande E quindi Cioè è stata Una roba Di una bellezza Cioè io poi Vedevo le gare oggi E quel tempo lì Io sono stato contento Di aver Vissuto quel tempo lì Perché poi Anche altri ragazzi Ad esempio C'erano Dei ragazzi Che quando eravamo Juniores Che avevamo Un panino in due Ce lo Dove mangiare Metta te Poi gli dicevo Cavolo Mi vedeva Che io ero Proprio conciato Lui questo C'era un ragazzo Che si chiamava Gritti Mi ricorderò Sempre Aveva un Benelli 250 Ma sembrava Cioè Solo da vederlo Era una roba Impazzivi Cioè Ma come Con le camere aperte Quando apriamo Un rumore Stratosferico L'unica roba Che era Non andava forte Allora io mi mettevo Sempre vicino a lui Perché a me Mi mancava Sempre qualcosa Poi con il mio amico Sancio Che stirava i bulloni Spannava sempre Sempre Era proprio un dono Di spannarli Sempre E poi A volte Gli correvo dietro Col martello Perché Alla fine Mi montava Le pastiglie Al contrario Ne faceva Di tutti i colori Ma Piccoli dettagli Cambiava il E poi Spannava Allora Lo attaccava Su con l'octai Così Il carburato Non lo aprivi più Per tutta la vita Cazzata così E allora Lui Questo ragazzo Mi guardava Mi diceva Andavo lì Dice Hai la 13 Perché Sai 10 11 12 14 15 E salta Troppo 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 Capito Ma poi Mila Perché Quando Vai a far Le gare Proprio come Vai a fare Una cosa Tra Amici Rimane Una cosa Così Tu non sei preparato Perché dopo Diventa una cosa Seria Certo Non lo scherzi più Quindi ho provato A fare la miscela Al 2 Al 7 Non si sa Cosa Rapporti Sempre quelli Sempre quelli Però io ho imparato Facendo le corse Ho imparato A migliorare E poi Se sei sveglio Quindi C'è Il sancio Il famoso sancio È uno che A Vallelunga La prima volta Si metteva in piedi Sul muretto Che non puoi stare Con fuori Una lavagnetta Così Che ho scritto sopra Ad esempio 23 Ma lui contava Con le dita Mammo neanche il cronometro 1 2 3 Ah il tempo Tuteneva così Si si Facceva più o meno Perché non avevamo niente Sai cosa Non è niente Non è niente Non è niente Non hai conciato A sbattere via Quindi Abbiamo raspato Per tutti i box Qualsiasi cosa Capito Ma questo Era il top Non è male Senti sai che Hai ancora 5 minuti E noi abbiamo ancora iniziato a parlare del mondiale Perché ci dobbiamo per forza rivedere Venici solo con le ragazzine come andava in quella fascia di temporali lì di cui abbiamo parlato stasera Cioè dai 14 Quando hai cominciato a guardarle Che rapporto avevi Come andavi Tu pensavi a Nolan No 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 Lì c'era Cioè calcola che la moto Perché eri quello che faceva la penna di un chilometro Sì però la moto Era una cosa talmente naturale Che veniva dopo Cioè era la cosa più importante Perché poi inverno Estate Cioè io ad esempio andavo forte Perché Sul bagnato Perché Perché ho imparato a andare Sempre con i colladatori A Mandello Che di inverno piove sempre Quindi noi andavamo in giro Quando c'era la neve Il solo motorino Quindi ho molta sensibilità Perché avevo imparato così Però I paesi da Lierna A Mandello Cioè in quei 10 chilometri A Badia C'erano tutte le ragazzine Che venivano a scuola con noi Che al pomeriggio Si andava Sempre a limonare Sulla strada nuova Quindi Ce ne erano 7-8 Che facevi girare Perché poi c'erano le Noi avevamo la scuola Le medie Le avevamo miste Quindi Già a scuola Facevamo Quindi il rapporto con le ragazze C'era a manetta Perché comunque c'era Perché tutte ste frazioni Poi ci andavi Perché poi C'era quell'orario Che prima che c'era il fischio del padre O la madre che le veniva a prendere Era il doposcuola Che c'era il doposcuola Allora no Che poi tra l'altro Io Un po' ripetente Nel doposcuola Andavo col dingo Tre marce E quando Mi mettevo giù Che arrivavo Che c'erano C'erano tutte le biciclette C'erano biciclette 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 Dingo Tre marce Biciclette 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 Che se te li ricordi Degli anni Cioè Da Virginia a Ferrari Kenny Roberts Becker Canaya Katayama Bonera Li disegniamo talmente bene Che da grandi Così li facevo così Sembravano Che erano ricalcati Io disegnavo solo quello C'era il compito di matematica Facciamo Bonera C'era il compito di italiano Ebbè Facciamo Capagliano Come hai fatto uscire da scuola Pagato papà No No Poi quel periodo lì Era un po' quelle cose che Alla fine Ho ripetuto qualche anno Poi dopo Passavi Perché vabbè Ti facevano passare Buonanotte Però io Sono quelle cose che a scuola Non è che Tu sei ignorante E che io non li voglia applicarti Perché poi Ero anche Penso intelligente Perché poi mi hanno richiamato Gli anni dopo i presidi Come Per dire Racconto la tua storia A tutti i ragazzi Mi hanno fatto passare Come un Alunno Modello E gli dice Non si ricordano Quello che combinavo Non si ricordano Però siccome Eri diventato qualcuno Dovevi dare l'esempio I ragazzi Che partendo da qua Sei arrivato là Cioè In realtà La scuola Se intanto non ci sente nessuno A quanti anni sei diventato uomo invece Quando sei diventato uomo Tu lo ricordi? Passa a ricordare C'avevi il dingo No Sai cosa penso Che noi Cioè io non ho capito Mai Qual è stata l'età Per sentirmi maturo Cioè io mi Si intendevo un'altra cosa Però dal limonare Il passare Ah no presto Ah si è andato via E si con quel giro Delle bambine che c'erano Ragazzine Cerca ancora suo papà Magari Qualcuno Sicuro Non lo so Ah presto presto Sì sì Ancora dingato Il dingo travarci Roba da 12-13 anni Sì sì Una roba così E ma per noi Cioè eravamo Porco sciampino E anche perché era il periodo Delle rivoluzioni Io ad esempio Mi inventavo che Non so sentivo il telegiornale I primi telegiornali della sera Che c'era lo sciopero Non so a Bologna Gli studenti No io cosa facevo A sette e mezza Tutti Cartelle davanti all'entrata Tre metri Oggi c'è lo sciopero E quella era la figata Capito Andare a scuola Mandello come lo sai Ne abbiamo occupati Un sacco di volte Casino Senza per perché Però casino Ma era casino Poi non so Mesi e mesi A giocare a stecca Con le firme dei genitori Fatti da te Uguale no Quindi Me non aveva mai tempo Di andare a vedere Sera Eravamo Eravamo Così Ma sì I matti I matti C'eravamo dei matti Come dire Perché Però sani C'era anche il periodo Quegli anni lì Era il periodo di Piumo Della droga E Hanno fatto Sfacelli Però noi Siccome Anche lì Da voi Anche in zona Sì Ma bestiace Il fumo Tutto estrope Dopo sono andati Sulle cose più pesanti Però noi La moto Le ragazzine Il divertimento Andare a smontare Un motorino Camera aperta E vernice A fare così Non c'era niente di più forte Vi ha salvato Non cercavate No Non c'era niente di più forte Di quello Cioè Quelli che facevano quello Non li consideravamo Degli inferiori Dei fallenti Sì Cioè Enzo Gianola Storia dei motori Ciao ragazzi Ciao Ciao